Fra le more amiche del Ninovacara, il nuovo Mazzara Targato Sciacca delude le aspettative dei tifosi gialloblu a corsia allo stadio. Ad averla meglio è stato infatti l'atletico Campofranco di Restivo apparso più compatto ai davanti nella preparazione. Eppure la prima insida della gara l'avevano creata proprio i canarini al 14esimo, con Gancitano che da fuori aveva provato la botta di destro sulla quale si è fatto trovare pronto Leonardo. Gli ospiti manovrano meglio, mandando spesso in affanno la non certo brillante difesa canarina. Al 31esimo infatti è proprio la retroguardia gialloblu che combina la frittata. Su un colpo di testa all'indietro di Di Carlo, Costa è abilissimo a sfruttare l'indecisione di Lombardo e di Polito, spedendo la sfera proprio alle spalle dell'estremo difensore canarino. A questo punto ci si attende alla reazione del Mazzara, ma ad arrivare sono soltanto gli svarioni difensivi dei gialloblu, come quello di Esposito al 36esimo, che consente al numero 10 Polito di calciare a botta sicura senza però riuscire ad inquadrare la porta. I padroni di casa stentano a trovare idee e da allora ci pensano gli ospiti a fare la partita. Al 45esimo, un ennesimo blackout della difesa del Mazzara, regala il raddoppio al Campofranco. Cross basso dalla destra, il Polito respinge corto ed ancora una volta Costa si conferma un vero e proprio rapace dell'area di rigore. Doppietta per il classe 94 e partita praticamente in cassaforte. Prima dell'intervallo resta da segnalare una posizione di fuorigioco molto dubbia di Cammareri, che si trovava tutto solo a tu per tu con Leonardo. Al ritorno dagli spogliatoi, Sciacca inserisce Guastella nel tentativo di dare maggior peso al reparto offensivo, mentre il restivo conferma gli stessi undici della prima frazione. La prima occasione della ripresa capita ancora al Campofranco, con un calcio di punizione a giro di Polito, che termina al lato di pochissimo. Al dodicesimo, il direttore di gara manda anzitempo negli spogliatoi il numero due Ardizzone, che molto probabilmente gli aveva indirizzato parole poco gradite a seguito di un fallo commesso. Il Mazzara a questo punto prova a rialzarsi, forte della superiorità numerica, ma la reazione sta tutta nella fiammata di Guastella, unica conclusione già all'ublo di tutta la ripresa, che al 65esimo si libera bene di due avversari prima di concludere alto sulla traversa. I ragazzi di restivo si limitano ad amministrare il risultato, sfruttando le ripartenze per impensierire Canarini. Al 73esimo, un altro errore di esposito innesca Panepinto, che entra in aria, salta Ippolito, ma sbaglia clamorosamente la conclusione. Lo stesso Panepinto ci riprova all'86esimo, ma questa volta trova l'opposizione di Ippolito, che con i pugni si rifugia in angolo. L'ultimo brivido del match arriva un minuto più tardi con Polito, che viene travolto dall'uscita dell'estremo difensore Canarino, che trova però prima il pallone e poi l'avversario. Finisce così, quindi, con il Campofranco che spugna il Nino Vaccara dopo aver giocato un'intera partita a viso aperto, e col Mazzara che può finalmente rientrare negli spogliatoi dopo 90 minuti di pura agonia. Dello squadrone allestito dalla società, nessun'ombra. Come del resto, non vi è nessun dubbio circa la reale caratura della squadra. Ci può stare quindi che la prima giornata vi sia ancora esposto il cartello con su scritto, lavori in corso. Mister Mazzara che stecca la prima in casa contro un Campofranco che sicuramente ha fatto un'ottima partita. Che cosa non ha funzionato per il Mazzara? Diciamo, quello che ha funzionato poco. Quello che non ha funzionato tanto. Non c'erano le misure, eravamo lenti, impacciati, si arrivava sempre secondi. E' una squadra che dovrebbe avere delle idee, ma delle idee non si sono viste. Evidentemente sono stati bravi loro, però nel stesso tempo anche noi li abbiamo aiutati. Oggi bisogna solo dare merito all'avversario che è stato più bravo di noi. Si aspettava un Campofranco così cinico, un Campofranco così preparato, che poi il gioco del Mazzara sicuramente gli ha facilitato un po' il compito comunque. Sì. No, la Fersano non mi stupisce. E' la cosa che mi ha stupito e non lo riconoscio di miei. Su quale aspetti lavorerà maggiormente in settimana per provare un po' a raddrizzare questa squadra? Ma c'è parecchio da lavorare, non c'è un aspetto solo. Penso che oggi abbiamo fatto male, bisogna fare molto meglio rispetto a oggi sicuramente.